E' morto questa mattina il centauro tedesco rimasto ferito in un incidente fra un'auto ed una moto, verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi della rampa che conduce allo svincolo autostradale di Contursi Terme. L'uomo, in seguito all'incendio della sua moto, aveva riportato ustioni molto gravi che purtroppo si sono rivelate fatali. Arrestato dalla polizia stradale, invece, il conducente dell'auto coinvolta, sul quale sarebbe stato riscontrato un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge.